Chi arriva? Che bel marinaio! Allegro, colorato, luminoso e fuori di testa. Chi l'hai? Vieni con me, che la farò vedere. Chi vengo con me, me la farai vedere. Ma anche cinico, impegnato, drammatico ed autore. Questo è stato il cinema italiano, che ha scelto Roma come suo set, ma anche come comprimaria. Rivivi con noi i grandi film del nostro cinema, nel luogo in cui sono stati girati. Polvere di stelle, i film nei luoghi dei film. Una passeggiata teatrale dell'Associazione Culturale Calipso. Ciencia, la Sally, i film di St.